La Lamborghini Aventador LP780 Ultime rappresenta tutto ciò che questo motore incredibile, stiamo parlando del V12, può rappresentare per Lamborghini e finirà di rappresentare con una vettura altrettanto speciale. E' già il nome Ultime, vi fa capire che questa versione sarà l'ultima vettura della gamma Aventador che sta aspettando un successore dopo 10 anni di modelli, dopo 10 anni di storia e che condensa qua il trionfo di questo incredibile propulsore. Un incredibile propulsore, stiamo proprio parlando del V12 aspirato Lamborghini che su questa vettura, anche se si posiziona un filino al di sotto dell'SVJ, ha il suo massimo potenziale in termini motoristici. Pensate, ben a 780 cavalli, 720 Nm di coppia per un propulsore che non solo è iconico, appunto a 10 cavalli in più dell'SVJ, 40 in più dell'S, ma assolutamente rappresenta tutto ciò che Lamborghini ha voluto regalare a una vettura speciale come la Aventador. Un'edizione ultima, un'edizione principe che vuole far lasciare un ricordo sicuramente speciale di questa vettura e che si va a freggiare ovviamente di alcuni elementi molto molto interessanti che la vanno a rendere effettivamente molto speciale. parte tutto qua dal frontale, vi accorgete già subito che cambia qualcosa sullo spoiler anteriore, più pronunciato, più cattivo e anche sulla bocca che c'è qua sotto che grazie a nuove prese d'aria va a portare più ossigeno al motore, ne serve e anche più aria ai freni perché ovviamente le performance vanno a migliorare e c'è bisogno di placare queste performance. Performance che sono di altissimo livello, 780 cavalli da un V12 aspirato e tra poco arriviamo a ragionare sul fatto che sia un V12 aspirato. La trazione è rigorosamente integrale, la sigla LP sta a significare un motore longitudinale posteriore, infatti è proprio montato in posizione longitudinale qua dietro, e una trazione integrale capace di scaricare a terra nel massimo della praticità, nel massimo dell'efficienza tutta questa potenza su strada, tanto da permettere a questa vettura non solo di raggiungere i 355 km orari di velocità massima, ma tanto di accelerare da 0 a 100 km orari, pensate, in appena 2,8 secondi, a 200 km orari ci arriva in poco più di 8 e queste sono performance veramente molto incredibili per un'auto che arriva ovviamente in tiratura limitata. Una tiratura limitata di 600 esemplari totali divisi in 250 Roadster, questa qua è una versione ultime Roadster, e 350 invece Coupé. Io ho scelto lei questa Roadster perché alla fine è un po' anche il trionfo di questa vettura, è un po' il trionfo della sua tecnica telaistica, che prevede ovviamente l'uso di un telaio completamente in una monoscocca in fibra di carbonio, che va a regalare non solo una resistenza torsionale altissima, ma anche un peso decisamente contenuto per il tipo di vettura, e se consideriamo anche al motore che c'è qua dietro, pensate, 1550 kg solamente, per un'auto del genere sono veramente pochi, e per un'auto che appunto vuole essere il canto del cigno, l'esemplare massimo di questa razza di Lamborghini. Bella, soprattutto anche qua nella zona posteriore, che va a riprendere da SVJ un po' la sua chiusura, e che va ovviamente a riprendere tutti i dettami stilistici derivati da un'ispirazione aeronautica, che a Ventador ha sempre avuto nella sua gamma. Vi voglio parlare di tante cose, vi voglio far vedere altri due elementi, ovviamente dischi freno sono in tecnica carboceramica, ovviamente i dischi sono sempre differenziati, 20 pollici all'anteriore, 21 al posteriore, ovviamente le prese d'aria laterali per tutti i radiatori di sistema sono assolutamente enormi, e vanno a contribuire al disegno stilistico di questa vettura, che fa anche dell'efficienza aerodinamica il suo tratto distintivo, per un'auto che è altrettanto speciale, tanto negli esterni quanto negli interni. Avete visto le portiere ad alla di gabbiano, che anzi, ad apertura verticale anteriore, che mi danno il benvenuto in auto subito con la scritta Aventador, subito con la targhetta che avete visto prima, che mi va a identificare il numero della vettura, e con degli interni che vanno sempre a riprendere quello che è il motivo AY, non tanto caro Lamborghini, non tanto per le lavorazioni sui sedili, ma tanto per tutti i ritrovati che ci sono ovviamente all'interno dell'abitacolo. Ve la faccio vedere, e anzi direi proprio di accenderla, questa Aventador Ultime, ci caliamo in abitacolo, e una volta accomodato al posto guida, vi faccio vedere quanto è speciale questa vettura, e quanto ci si sente speciali a sedere qua al posto guida. Andiamo prima ad accendere il quadro, che voglio animare la vettura, e intanto andiamo anche a chiuderla, e una volta che l'abbiamo animata poi andremo anche ad accenderla. Una vettura che mi offre un quadro strumenti completamente digitale, completamente personalizzabile qua davanti, che nasce esclusivamente per concentrare tutte le informazioni necessarie, soprattutto nell'utilizzo spinto, ma ovviamente anche nell'utilizzo quotidiano, con la possibilità di vedere anche altre informazioni, e che mi dà un accesso immediato a tutti quelli che sono i parametri interessanti della vettura, e soprattutto anche di questo bellissimo quadrante analogico, simulato analogico, che mi fa capire che questo motore spinge fino a 8500 giri, veramente tanti per un motore così grande, e soprattutto una vettura che mi dà sempre la possibilità di configurare la sua anima. come il sistema di Lamborghini, che di base mi dà tre configurazioni, più una configurazione speciale, ovvero strada, sport, corsa, è inutile che vi dica a che cosa rispondono, ovviamente sono modalità di guida che vanno a influenzare non solo le sospensioni, non solo la risposta dell'ammortizzatore, non solo la mappatura del motore, ma anche l'azione di tutti i sistemi di controllo, di sicurezza dell'SC, e tutto ciò che la vettura interpreta come guida, perché ovviamente non solo cambiando la modalità di guida, la vettura cambia la sua anima, ma la vettura va ad adattare anche i sistemi di controllo elettronico, e quelli che sono i pattern di guida, significa che se la mettiamo in modalità corsa, a seconda di come guidiamo, a seconda di come anticipiamo, a seconda di quello che facciamo, la vettura va a tararsi in un modo più o meno diverso. Infatti adesso la metto in modalità corsa e mi preparo ad accendere l'auto. Che meraviglia, il B12 è così rotondo, è così poderoso, e poi ha questa capacità di urlare così in alto che è sicuramente qualcosa di speciale, e se vado casualmente a dare un po' di gas... Non lo faccio più perché altrimenti gli tiro giù tutte le vetrate qua della sede della squadra corsa Lamborghini. Evitiamo, evitiamo, e anzi godiamoci la vettura che si presenta come un'arma letale, e non solo per tutte quelle sessioni in pista, ma anche per l'utilizzo bene o male di tutti i giorni. Tanta fibra di carbonio ripresa anche nella costruzione, tanta alcantara qua sul cruscotto, e sicuramente è inutile parlare di qualità su un prodotto del genere, perché è un prodotto che si configura per essere sicuramente interessante dal punto di vista delle performance. Non vi voglio parlare di sistemi infotelematici, vi do altri due dettagli tecnici prima di fiontarmi alla guida, perché tanto l'abbiamo capito che qua ciò che conta è il motore, è sempre bello il sistema di accensione e spegnimento di questa Aventador, ciò che conta è il motore, e ciò che conta ovviamente è anche tutte le migliorie che sono state effettuate sul progetto, perché vi ho detto che i freni vanno a migliorare quella che è la loro erezione, per andare a migliorare quella che è la loro consistenza, freni che su questo impianto assolutamente incredibile riescono a garantire su questa vettura, pensate, una decelerazione da 100 a 0 km orari in appena 30 metri. Valori assoluti, valori non solo di riferimento, ma che vi fanno capire quanto lei vuole essere cattiva su strada, quanto lei vuole essere il coronamento di un progetto, che piano piano ci sta salutando. Ora, il motore, perché l'ultimo V12? Sarà veramente l'ultimo V12? Più o meno. Cosa significa? È sicuramente l'ultimo V12 aspirato di motori così, esclusivamente endotermici, non ne vedremo più. Cosa ci riserve il futuro? Boh, vedremo. Ci sarà ancora il V12? Boh. Ci sarà ancora il V12 aspirato? Boh. Sarà aspirato insieme a qualcos'altro, magari una componente elettrica? Boh. E quindi Lamborghini si sta veramente impegnando, tanto nell'elettrificazione della gamma che prevede al 2024 l'elettrificazione totale, vuole comunque mantenere la star, vuole comunque mantenere questo motore andando a intervenire post, aggiungendo qualcosa per riuscire a sfruttare ancora la bellezza di questo propulsore 12 cilindri. Un propulsore 12 cilindri che rende sicuramente quest'auto speciale, e che la rende incredibile, tanto quanto si merita questa Aventador ultime, e che sicuramente mi fa venire tanta tanta voglia di guidarla. quindi, bando alle ciance, mettiamoci in auto e scopriamo un po' che cos'ha da dire questo cuore così tanto speciale di questa Aventador. Uh, mamma mia! 780 CV che si sentono davvero tantissimo su una vettura che ovviamente nasce sbilanciata per quanto riguarda i pesi sull'asse posteriore, ma che grazie a una taratura magistrale riesce invece ad avere un comportamento veramente poco sottosterzante in curva e con una risposta davvero incredibile. La scalata di questo cambio mi piace tantissimo, mi piace tantissimo veramente la grinta che mette questo propulsore, e tutti i suoi 720 Nm di coppia che si sentono veramente veramente tantissimo quando si va su strada e quando si va a far lavorare la vettura, per amore del cielo, anche a bassi giri accompagnati dalle note melodiose di questo V12 che sicuramente rindono speciale questa vettura. In più l'aerodinamica attiva non si ferma semplicemente alle superfici fisse sull'auto, ma dietro mi sono dimenticato di dirvi che c'è un'ala regolabile in tre posizioni, una per ottenere le massime performance, la massima velocità, una per ottenere la massima aderenza, la massima downforce, oppure la posizione banalmente chiusa dell'ala, che tutto è configurabile, tutto è configurabile anche nella modalità ego, perché c'è un'ultima modalità che si chiama appunto ego, tra le modalità dell'anima di questa Lamborghini, che mi permette di trarre singolarmente ogni parametro, che sia sterzo, che sia risposta dell'acceleratore, che sia motore, che sia sospensione, che sia appunto l'ala. La vettura è sotto il mio controllo e in generale comunque rimane un'auto veramente tanto speciale che va a celebrare questo motore così speciale, che mi va a far vivere questo motore così speciale e quasi la preferisco in versione roadster anziché coupé, perché sicuramente qua in plein air si può andare a sfruttare al meglio questo motore, andare a giocare al meglio con questo motore e capire quanto la vettura ha da dire. Veramente incredibile. Quindi se questi 780 cavalli non vi bastano, quindi se questo cambio robotizzato, se ti rapporti, che cambia tanto velocemente quanto sono veri i 50 millisecondi, 55 millisecondi nelle sue serie per la cambiata, se non vi bastano gli 1,98 kg per cavallo di questa vettura, beh, non so come potreste accontentarvi. L'unica altra cosa che vi posso dire per chiudere, perché c'è veramente soltanto da emozionarsi guardando un oggetto meraviglioso, come questa ventador ultime, è il fatto che se proprio volete comprare uno dei 60 esemplari, che assolutamente non sono già quasi stati comprati tutti, beh, ci sono 18 tinte carrozzeria, ci sono 5 tinte per gli interni, per tutti gli elementi a contrasto negli interni, ed oltre 300 colori disponibili per il programma Lamborghini Ad Personam, che va ovviamente ad ampliare tutta quella che è la personalizzazione offerta ai clienti di un marchio così speciale. Insomma, è giunto il momento di salutare questa Aventador ultime, è giunto il momento di renderle omaggio, è giunto il momento di rendere omaggio a un progetto che si è avvicinato, anzi ha finito la sua carriera in attesa ovviamente della sua erede. Brava Lamborghini, brava a rendere omaggio a un progetto così speciale, a un motore così speciale, e soprattutto per continuare a far sognare noi appassionati con un propulsore sicuramente unico e che resterà nei nostri cuori. Detto questo, voglio sapere da voi che cosa ne pensate di questa Aventador ultime, voglio sapere da voi che cosa ne pensate non solo del suo motore, che cosa ne pensate dell'elettrificazione, che cosa ne pensate del futuro Lamborghini da qua al 2024, visto gli obblighi imposti al costruttore come a tutti gli altri costruttori, e voglio sapere da voi forse anche quasi cosa ne pensate del prezzo, considerando che sarà ovviamente più basso rispetto ai 350.000 euro necessari per portarsi a casa la SVJ di cui lei si posiziona un gradino sotto. Brava Lamborghini è stata sicuramente una bella emozione, un bel ricordo da portare con me per quanto riguarda la mia carriera personale e professionale, e sicuramente un oggetto veramente unico e speciale che merita tanta tanta attenzione. Quindi con quest'ultima visione della vettura, io direi che il video si può concludere, si può portare a chiusura, e noi ci vediamo sempre al prossimo video, sempre su Automoto. Ciao! Ciao!